Romina Power Romina Power, video su Instagram rivela un solitario nuovo sulla sua mano Il secondo genito della coppia inquadra la mano di Romina svelando il gioiello e i fan sognano un secondo matrimonio con Albano. . Ben ritrovati con lo spazio dedicato a Romina Power, che recentemente è diventata nonna del piccolo Kay. Alcune ore fa il secondo genito Yari Carrisi ha svelato un particolare che ha attirato l'attenzione di tutti. Sull'anulare sinistro della cantante statunitense è spuntato un bellissimo anello. Un solitario che fino a qualche tempo fa non c'era. Sul suo profilo Instagram, il figlio della storica coppia ha postato un video in cui sfoglia un settimanale di gossip dedicato ai matrimoni memorabili. . La copertina è stata dedicata alle nozze del principe Harry e Meghan, ma al suo interno ci sono anche le foto delle cerimonie del maestro Carrisi e Romina oltre a quelle dei nonni materni Tyron Power e l'attrice Linda Christian. . Il gioiello indossato dalla cantante statunitense è un regalo dell'ex marito? I followers fantasticano. . Qualche minuto dopo, il secondo genito di Albano e Romina ha pubblicato un'altra storia su Instagram inquadrando intenzionalmente la mano sinistra della madre rivelando qualcosa di inedito, un meraviglioso solitario. . Il gioiello indossato dall'artista italo-americana è un regalo dell'ex marito? Ovviamente numerosi followers dei due cantanti hanno iniziato a fantasticare sulle possibili seconde nozze. . Ebbene sì, da qualche giorno il magazzine nuovo ha lanciato quest'indiscrezione che è stata rilanciata da Barbara D'Urso nel rotocalco Pomeriggio 5. . . Ovviamente si tratta di un rumor che non ha trovato conferme da parte dei diretti interessati e che ha alimentato ancora di più i gossip sulla storica coppia. Il 7 luglio 2018, Albano e Romina Powerì in concerto a Genova. . . Nei prossimi giorni, i due artisti si recheranno in Austria per realizzare un nuovo concerto. Venerdì 8 giugno ci sarà la Notte Italiana e insieme alla storica coppia ci saranno anche i ricchi e poveri e Toto Cutugno. . . Il 7 luglio 2018, invece, dalle 20 alle 22, all'Arena del Mare di Genova, Albano e Romina si esibiranno in occasione del settantesimo compleanno di Costa Crociere. . Alla manifestazione parteciperanno anche Francesco Gabbani, Ermal Meta, Elodie, la band The Colors e tanti altri artisti. . Se desiderate ricevere altre curiosità sulla prossima tournée della storica coppia consigliamo ai lettori di digitare sull'apposito tasto azzurro Segui canale Albano Carrisi che trovate vicino al titolo di quest'articolo. .